E' stato un buon test per noi. Abbiamo avuto diverse risposte positive da questa amichevole, anche se dobbiamo ancora migliorare qualcosa. Mancano meno di due settimane al debutto mondiale e questa è la prima volta in cui abbiamo giocato sotto questo caldo. E' stato un buon test. Il caldo qui a Miami si è sentito e come? Anche quando non c'era il sole. Poi quando il sole è uscito per 5-10 minuti il caldo era ancora più intenso. Ma è un bene che sia stato così, anzi speriamo che la prossima partita faccia ancora più caldo. Ne abbiamo bisogno in vista di Manaus. Faccio i complimenti all'Equador per aver segnato due bei gol. Per fortuna noi siamo riusciti a pareggiare, anche se non so bene com'è successo, l'azione era un po' confusa. Poi nella ripresa abbiamo cominciato bene, siamo passati in vantaggio e avremmo potuto anche segnare il 3-1. Questo è un po' il nostro rimpianto, ma va dato credito all'Equador per la rimonta e per averlo fatto con un altro grande gol. Quando ho preso il palo sul primo gol di Rooney, Oxlade Chamberlain ha fatto una fantastica azione sulla fascia. Sul secondo gol ho ricevuto una bella palla da Barclay e ho tirato senza pensarci troppo. Segnare per l'Inghilterra è la più bella sensazione che si possa provare. Segnare per l'Inghilterra è la scuola per l'Inghilterra?